Ti vari che hai? Qual è il batterista? Allora, il batterista... No, no, ma c'hai le ghette, ma che è? Vai a cavallo vai! Sì, guarda, guarda, mira qua, vedi? Fai vedere, fai vedere, ha battuto la testa, ecco perché, qui... Sono volato su un sasso cadendo da un cavallo suo, che me l'ha dato apposta, poi io andavo come un pirla in giro, impazzito, il cavallo è impazzito. E poi, niente, Francesco aiutami, aiutami, così! Lui non mi ha cagato di striscio, sono caduto, mi sono fatto male il sangue che usciva dalla testa, lui rideva da cavallo, io pure. È il problema sempre che hanno i batteristi, i batteristi odiano il frontman, perché loro sono relegati là dietro in basso, mentre il frontman è sempre inquadrato. Soprattutto lui, perché è un arciso nato, no? Ascolta, tu invece che ti piace, un arciso nato? Ma io sono invidioso dei suoi capelli, prima di tutto, è una roba che... Poi, no, il mio batterista è John Bonham, il massimo dei massimi, perché sono le Zeppeliniano e la Nausea, quindi... E poi, come l'Urtran, i Pink Floyd, che non mi piacciono. Senti, ma gli altri due moschettieri dove li hai messi? Sono rimasti a casa perché non suonano tanto bene, allora io sono il migliore dei... Aramis, mi chiamo. Tu sei Aramis? Mi chiamo Aramis. Ok Aramis, con Trine e Merletti, che brano ci fate!